Importante ordinanza firmata da Gerardo Antelmo, sindaco di Cicerale, riguardante il benessere psicologico dei minori durante il periodo di quarantena. Infatti nel comune di Cicerale sarà possibile per bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni di allontanarsi da casa accompagnati da un componente maggiorenne del proprio nucleo familiare, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 17.30 alle 20. Il minore ed il suo familiare dovranno mantenere una distanza di tre metri da altri contatti e avranno l'obbligo di indossare la mascherina. Ovviamente saranno vietati gli assembramenti. Il mancato rispetto di queste regole porterà ad una sanzione amministrativa dai 100 ai 400 euro e l'isolamento fiduciario dei trasgressori. Ho raccolto il grido di allarme di alcune mamme che hanno segnalato evoluzioni strane comportamentali nei piccoli isolati. A Cicerale la salute dei bimbi prevale su tutto. Con contagi zero, aree naturali aperte, buonsenso, è doveroso aprire ai bambini che stanno soffrendo l'isolamento più degli adulti. Queste le parole del sindaco Antelmo con le quali parla del provvedimento preso. Cicerale è il primo comune campano ad adottare una disposizione di questo tipo e sono stati vari motivi, ma principalmente si basa tutto sugli effetti negativi che ha la quarantena sui minori. I danni non sono solo fisici per la mancanza di movimento, ma soprattutto psichici per i bambini, come evidenziato da alcuni studi che hanno rilevato sintomi depressivi, ansiogeni e fobici sui minori durante l'isolamento. In più, la localizzazione del paese di Cicerale e l'assenza totale di casi di Covid-19 nei paesi limitrofi hanno garantito maggiormente la possibilità di effettuare questa ordinanza.